Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è il romanzo di una donna che apparentemente ha una vita perfetta, ma che nasconde uno scuro segreto legato al suo passato. Il libro offre una riflessione sul potere dell'empatia e dell'aiuto reciproco. La trama del libro La mia Itaca, di Anna Valeria Friggerio, edito da Rossini, è la seguente, piena di passioni, curiosa, estroversa, disinibita e con un marito amorevole al proprio fianco. Luce sembra avere una vita perfetta, ma basta poco per capire che in realtà non è così. Qualcosa nel suo passato ha subito una rimozione e adesso sembra voler tornare in superficie. L'incontro con Katia permette a Luce di ricordare una terribile realtà e ripetuti abusi subiti durante l'infanzia. Inizialmente spiazzata, la donna inizia a metabolizzare e a capire tante cose della sua persona, anche con l'aiuto della sua metà Tazio e soprattutto di Katia, che aiutere a Luce a mettere in ordine la sua esistenza. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere, cortesemente, cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra inoltre la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale. Grazie e un caro saluto.